I diritti che nascano sulla base del legame con il sangue e con la stirpe sono diritti che appartengono a un clima e a una cultura opache di derivazione fascista. Lo ius sanguinis è veramente una lesione alla nostra civiltà giuridica, lo ius soli è un ingrediente essenziale per definire che cosa debba essere la cittadinanza, la titolarità del diritto a essere cittadino in qualunque paese civile del mondo è legato alla nascita di quella determinata terra, di quel suolo. Io credo che dopo le vergogne delle leggi ranziali, dopo il clima culturale regressivo, il fatto di intolleranza e xenofobia che abbiamo vissuto negli anni del governo e dell'egemonia culturale della destra, io penso che ripartire dal diritto di cittadinanza per tutti i nati in Italia è una necessaria, doverosa, indispensabile, irringhiabile riparazione. Si tratta di riacquistare il senso della decenza e del decoro di fronte agli occhi del mondo.